Allora, innanzitutto, scusanti non si possono utilizzare, però oggi non è proprio girata bene rispetto a come abbiamo giocato con Bergamo. Alcuni fondamentali non hanno molto dato il loro contributo, la ricezione un attimo, però normalmente è più giù la palla, è questo l'importante. No, no, siamo pronti per ripartire, adesso abbiamo l'ultima di campionato sabato prossimo, dobbiamo andare avanti perché è ancora lunga, siamo solo alla fine del giorno d'andata, quindi avanti ancora e facciamo un ottimo lavoro.